Tenute nei giorni 17, 18, 19 e 20 gennaio 2023, così come certificati dall'allegato documento cartaceo relativo al voto, espresso di complessivi 3.681 votanti, schede bianche 21, contenente la graduatoria generale di tutti i candidati con il sistema elettronico trasmesso dalla ditta telemitic di Milano, datato 21-2023, che parte integrante incendibile del presente verbale, proclama eletti dal primo al 25, Starace Guglielmo, numero voti 1807, per l'uomo Antonio, numero voti 1668, da Luiso Salvatore, numero voti 1650, Russi Alessandro, numero voti 1513, Basciani Giuseppe Andrea, 1444, Desiati Roberto, 1439, Panaro Gabriella, 1311, Romero Pietro Nicolai, piccolo voti 1650, Piccolo Carmelo, 1312, Carrozzini Pietro, 1771, Selvaggi Piccola, 1774, Fioretti Gaetano, numero voti 1655, Ariadante Valeria, numero voti 1100, Ressa Sabello Francesco, numero voti 1092, Perchino Paola, numero voti 1098, Accomnetta Eugenio, numero voti 1063, Papadia Maria Antonietta, numero voti 1030, del giudice Anna, numero voti 979, Di Peppe Feliciana, numero voti 966, Ranieri Francesco, numero voti 934, Conte, Sanni Giovanni Antonio, numero votiания, numero voti 902, Collegue heat, le Calvario Di Posta, numero tornare sul guido dios Mama Caeta, numero voti 903,ota iporario. Grazie a tutti